Sono stati arrestati i presunti attentatori che cercarono di uccidere il consigliere comunale Pasquale Ventura, capogruppo del Partito Democratico di Barletta. Le agenti della Polizia di Stato hanno eseguito nella notte due fermi a Barletta nei confronti dei due uomini che il 20 gennaio scorso si avvicinarono in moto sparandoli contro due colpi di pistola senza ferirlo. Il provvedimento cautelare di fermo di indiziato di delitto è stato emesso dal sostituto procuratore Mirella Conticelli della Procura di Trani. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della BAT diretta da Carlo Maria Capristo, si è basata, quanto ci è saputo, su una minuziosa acquisizione delle riprese registrate da varie telecamere di sorveglianza e su attività tecniche che hanno consentito agli investigatori di identificare i due presunti attentatori che si avvicinarono a Ventura a bordo di una moto. Ventura divenne bersaglio dei due uomini mentre stava per entrare in auto nei pressi dell'abitazione delle figlie in via Firenze a Barletta. Rimasto illeso, dette l'allarme, informando le forze dell'ordine dell'accaduto. Nessuna ipotesi fu esclusa nel corso delle indagini, da quella politica a quella legata alla sua attività professionale di impiegato di banca. Tra le piste battute, anche quella del movente di natura personale. Il nome di Ventura, lo ricordiamo, era circolato lo scorso anno perché coinvolto in un'indagine della Guardia di Finanza sulla gestione di un centro sportivo in via Rossini, alla periferia di Barletta, affidata dal Comune durante la passata amministrazione del sindaco Nicola Maffei ad una cooperativa.